Musica Martedì 21 giugno, buongiorno ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa occhio ai giornali e come sempre buongiorno a tutti ci ritroviamo per leggere i giornali sfogliare un po' il calendario, il santo del giorno con le previsioni del tempo allora cominciamo dal santo di oggi, oggi è un santo che in molti conoscono San Luigi Gonzaga, è stato un religioso e parliamo di un santo che è vissuto nel 1585 il sole è sorto alle 5.25, tramonterà alle 20.54 oggi è il giorno più lungo dell'anno con 15 ore passa di luce, insomma 15, cioè anche nel nostro sito magari poi andiamo a vederlo anzi facciamolo subito andiamo a vedere il nostro sito internet a proposito di questa notizia eccola qua, l'abbiamo pubblicata questa mattina alle 6 in prima pagina, in apertura oggi è il giorno più lungo dell'anno e oggi inizia l'estate finalmente a Roma per esempio il sole il 21 giugno oggi sorge alle 5.34 e tramonterà alle 20.48 insomma abbiamo 15 ore e 15 minuti di luce, insomma non è poco allora dicevamo il tempo, per oggi c'è lo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento domani lo stesso, sole su tutta la costa, temperature sempre in aumento guardate giovedì mai vista, una giornata così bella, tutto sole neanche una nuvoletta per giovedì 23 di giugno allora adesso andiamo a leggere i giornali cominciamo dal messaggero il messaggero in apertura mette il dragaggio del porto di Pesaro il dragaggio, il porto Felbis l'intervento per liberare 70 posti barca si conclude e si allarga all'area Pescherecci Forza Italia accusa un progetto inesistente poi arriva il bando voluto dal sindaco Ricci per il molo d'autore la maturità, la carica dei 3.000 alla prima prova è una quinta superiore, sempre più selettiva perché in questo mese di giugno sono ben 43 gli studenti della scuola pubblica pesarese costretti a fermarsi a un passo dall'esame di Stato tanti sono i non ammessi alla maturità per una cifra che contrassegna un piccolo primato rispetto agli ultimi 36, 38 e 28 che non sono stati ammessi registrati a ritroso negli ultimi anni per altri tanti scutini insomma un primato in negativo 43 infatti, ripeto, sono gli studenti che non sono stati ammessi all'esame di Stato giornata della musica, oggi la visita del ministro Franceschini sulle orme di Rossini due tappe e un'agenda fitta di impegni per il ministro dei beni culturali che oggi visiterà Pesaro e poi visiterà Re Canati la cronaca con il Bancomat che è esploso a Pergola poste chiuse per due settimane disagi all'agenzia dopo il colpo lettere in ritardo e pensioni non pagate stiamo parlando dell'ufficio postale di Pergola che appunto per due settimane rimarrà chiuso poi sotto finalmente arriva l'estate la primavera si è congedata dalla nostra regione in maniera del tutto anomala regalando una giornata fortemente instabile e fredda con ogni probabilità quella di ieri infatti è stata la giornata mediamente più piovosa del 2015 i valori odierni saranno compresi tra i 21 e 27 gradi le minime uscelleranno tra 10 e 18 gradi l'altra pagina, quella delle Marche il saluto a Vittorio Merloni l'industriale marchigiano che si è spento qualche giorno fa in 2000 al funerale Duomo Gremito, Montezemolo sfiora la bara della valle commosso tra gli altri c'era anche Casini, Abete, Emma Marcegaglia Marcegaglia e poi Malagò, Cipolletta il cardinale Edoardo Menichelli ha detto Vittorio Merloni nato da una famiglia povera è stato un grande industriale non ha anteposto il denaro a tutto il resto sulla maturità abbiamo già visto sulla politica invece il PD comincia a fare un esame di coscienza su come sono andate anche a livello locale i ballottaggi, i ricci il PD va riorganizzato e Matteo Renzi aiutato la profezia sui 5 Stelle invece quando bisogna amministrare la propaganda dice Ricci vale zero sulla questione dei furti ancora furti i ladri non daranno tregua due furti sono stati messi a segno nell'arco di circa mezz'ora la notte tra domenica e lunedì è successo in via Andrea Costa a Pesaro presi di mira alcune abitazioni in via Giolitti compresi i garage poi a Urbino il dilitto di Ismaele Lulli guerra di perizie e contro il tempo domani una nuova udienza dopo il colpo di scena con Igli Meta che ha accusato il complice Mario Mema e poi a Urbino invece un bagno da dolce vita come alla fontana di Trevi questa volta però è andata male a quest'uomo che è stato addirittura arrestato è successo domenica sera a Urbino aveva deciso di fare il bagno in questa fontana in manette è finito un 47enne di Gadana che era ubriaco e adesso la pagina di fano del messaggero nuovo ospedale gli ambientalisti bocciano anche la valle dell'Arzilla un vuoto risposta con il comitato che propone l'area attorno a Carignano una zona fragile quanto fosse sei ore e carente delle necessarie infrastrutture per il gruppo ambiente salute la scelta del luogo è un falso problema la priorità sono i servizi riorganizzati e poi a Marotta di nuovo allagata ieri per il nubifraggio del primo mattino la pioggia fa ancora paura una tromba marina nel pomeriggio invece e a Ponte Sasso scatta l'allarme per la piena del rio Crinaccio e adesso andiamo sul Corriere Adriatico molo d'autore al via al concorso via al concorso di idee pubblicato il bando per la passeggiata al porto intanto il comandante ordina un nuovo dregaggio la pagina di Fano invece un mistero anche il numero dei posti letto parliamo di sanità locale i sindacati incontrano la città una situazione drammatica privi di informazioni chiave e sotto invece note, dialetto e risate e la BCC Arena si inaugura questa sera la stagione estiva sul palco la grande orchestra di Bagutti con lo spettacolo la musica siamo l'Italia che balla e ancora dal Corriere via ai lavori sul ponte crollato giovedì si apre il cantiere 90 giorni per ripristinare il passaggio stiamo parlando del ponte dell'Acqua Santa tra Mondavio e Corinaldo che è crollato più di 5 anni fa la sera del 31 gennaio del 2011 ebbene inizieranno questa settimana i lavori tempo di esecuzione previsto 90 giorni e ancora Landscape ed Archeology sulla Flaminia un convegno internazionale itinerante sull'antica via consolare che collegava Roma al mare Adriatico con il centro studi Vitruviani la Politecnica delle Marche Uniscape Carlo Bo e poi altre ancora per questo appuntamento che si terrà da giovedì a sabato un convegno internazionale itinerante lungo tutto la strada Flaminia dalla pagina del Senigallio del Corriere Adriatico invece ancora maltempo si allagano gli uffici del comune i vigili del fuoco all'ex Gil una situazione critica anche al camping Summerland cade un albero in mezzo alla strada a Borgo Passera smottamento in via Santa Lucia a Roncitelli e adesso il resto del Carlino con la storia di un fanese Arturo Busca che ha incontrato niente meno che il capo di Facebook colui che ha inventato Facebook Mark Zuckerberg e dunque perché è andato lì perché lo ha incontrato perché ha suggerito una modifica al social network e siccome ha scritto insieme a tanti altri ovviamente perché Mark ha qualcosa come non so quanti milioni di amici ebbene tra i tanti che hanno scritto l'azienda ha chiamato appunto Arturo Busca gli è stato pagato l'aereo è andato lì lo ha incontrato e ha detto ecco secondo me bisognerebbe fare così aveva chiesto aveva chiaramente Mark aveva mandato aveva postato una domanda in tanti hanno risposto un consiglio come si fa spesso ed è stato convocato un sistema per schermare le foto scioccanti tutto è partito da quella immagine lo ricorderete di quel bambino a pancia in giù morto sulla riva sulla spiaggia pubblicata qualche tempo fa ecco e Arturo Busca ha dato un consiglio a Mark Zuckerberg lo leggette e lo potete leggere sul giornale di questa di questa mattina poi sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico anche qui Rio Crinaccio cresce di livello tra i residenti torna la paura il rischio è sempre lo stesso quello dell'esondazione e poi oggi c'è nella pagina di Pesaro del resto del Carlino la notizia della morte a 48 anni nel sonno di Massimiliano Massimiliano Scola 48 anni diversamente abile conosciutissimo a Pesaro ha frequentato per anni l'Aias e la parrocchia di San Carlo Borromeo dove questa mattina saranno in tanti a salutarlo questa mattina alle 10.30 ci sarà appunto questo funerale nella sua chiesa amato da tutti da sempre nella carrozzella ma con un cuore grande che ha fatto breccia in tantissime persone e poi l'uomo che è finito all'ospedale per un aneurisma dopo un furto che aveva scoperto in casa Pietro Vichi secondo intervento tutta la comunità è vicina a questa persona che è stata colpita da questo aneurisma il cuoco della festa di Pantano 85 colpito da Malore dopo essersi accorto che nella sua casa c'erano stati ladri Vichi ha subito ieri un piccolo intervento chirurgico la testa per ridurre la pressione intracranica scrive il quotidiano il resto del Carlino vi faccio vedere anche la prima pagina del Carlino l'estate che non va con questa persona che ha l'ombrello in spiaggia l'unico aperto perché poi il resto gli ombrelloni sono tutti chiusi vedete un giorno su due a giugno è piovuto inizio stagione da paura incassi da fame 10 euro al giorno la rabbia dei bagnini diremo ai nostri politici cosa vuol dire finire sott'acqua e poi le altre pagine sul ponte dell'acqua santa abbiamo già detto giovedì parte la ricostruzione l'annuncio di Federico Talè il consigliere regionale del PD già stanziati dice Talè oltre 3 milioni di euro e poi andiamo sulla pagina sulla pagina di Fano almeno dateci la pista ciclabile la guerra degli espropri opere compensative tombaccia non si placere i residenti chiedono anche di modificare il tracciato della strada il sindaco se rincontrerà i cittadini fino ad allora non posso esprimermi e poi sotto al Sant'Arcangelo porte aperte alla Casa della Musica so subito due sale per provare gratis se tanti giovani a Fano hanno la passione l'hobby ma soprattutto la passione per la musica ebbene questa è una sala prove importante una sala prove che ci voleva e quindi è a disposizione per tutti coloro che vogliono usufruirne ed è tutto per la rassegna stampa di oggi grazie per averci seguito arrivederci a domani Grazie a tutti